Cosplay 2014, eccomi qui, grande scoop. Mi trovo con Goku, Super Saiyan 3, con Vegeta e con Lady Oscar al gran ballo. Ciao. Eccoci qua, allora, com'è sta andando la giornata? Direi piuttosto movimentata. Questo Vegeta come si comporta? No comment. Non cambia mai, è il solito zotticone, guarda, non ce lo porto più. Non va Goku, eh? Lady Oscar, due parole? Eh, non lo so. Grazie! Due parole, attenta una, ok. Allora, vogliamo fare qualche mossa a chi ci vede, chi ci sta guardando? Ame! Ame! Aaaaaah! Big Bang Attack! Lady Oscar non fa mossa, vogliamo anticipare la mossa? Tadà! Eh vai, ok, ragazzi, un saluto a tutti quanti gli amici di Cosplay, a tutti gli utenti su YouTube, MySpace, Facebook e Twitter e i vostri canali. Eh, pagina fanpage di Facebook, Son Goku Cosplay. Mi potete trovare lì anche a me. Ecco, perciò ripetiamola per chi non l'avesse capito. Son Goku Cosplay. Perfetto, allora, ciao a tutti gli utenti! Ciao! 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 !